E non avevo visto il film prima di Canna, dietro di me c'era mio padre e mio fratello e ho detto a mia madre di non venire, era meglio, e lei non ha mai mai veduto il film, era meglio così. E dunque alla fine Jean Gilibert ha detto fuori, dentro il cinema, noi in piedi, la metà applausi, l'altra metà si sono scatenati. C'è pure uno che ha detto adesso ho potuto anche pisciare su noi, ma proprio una cosa. E mi sono girato verso mio padre e mi ha fatto così. Ho detto va bene, perché lui pensava che ero un pregiudato ovviamente. E poi all'uscita, scendendo questo vecchio palazzo, c'è una signora, si vedo pure in certi film televisivi o cosettine, c'è una signora che mi ha presa, mi ha fatto così e mi ha detto sono disperato di essere francese. Dunque siamo stati circondati con i poliziotti tutta la serata perché era veramente uno scandalo mostruoso. E penso che Marco era molto felice, ha ragione di questo. Ed è vero che è stato il suo più grosso successo. Per te c'è stato un lancio? E per me, dunque per me... Ma non è stato anche un po' pesante? Allora, per me è stato uno lancio diciamo europeo, visto che ho lavorato quasi su tutti i paesi, con tutti i paesi europei dopo di questo. Ma ovviamente ho rifiutato molti film perché mi volevano tutti come nella grande bufata. E io ho capito che va bene, un film ti lancia, poi dopo devo costruire una carriera. Ho dovuto riprendere da sotto e costruire poco a poco, con delle parti più grandi o meno grandi, capire il mestiere, fare il mestiere di attrice, costruendo una carriera. No, perché tu riesci anche, in parte che non sono da protagonista, quando ci sei, da vita al personaggio e in un certo senso da vita al film. Grazie. Anche in film minori, perché tu hai fatto più di cento film, è ovvio che non sono tutti filmati. Purtroppo, non sono tutti opere d'arte. No, ma ho avuto la fortuna perché sono stata un'attrice molto fortunata, dalle anni settanta a novanta. Ho lavorato in Europa con tutti i più grossi e precisi, quasi tutti. Io ho fatto un elenico così, dei registi non francesi e non italiani. C'è Werner Schröder, c'è Fass Binder, l'esperienza. Volker Schlendorf, a parte del Tempore. C'è. C'è Fass Binder, del chef d'orchestra, maestro di musica. Peter Grinouet. Oui. Samuel Fuléano. Oui. Samuel Fuléano. Tony Richardson. Tony Richardson. Un portoghese, non molto noto, ma un bravo registro, Fernando Loccio, che era un ottimo regista. Dunque questa carriera è assolutamente incredibile. E in Italia tutti i più grossi. In Italia ci arriveremo, perché sarà un po' questo incontro, si possa parlare anche delle altre parti, anche in film francesi importanti, ma ovviamente, visto che siamo a bar, parleremo soprattutto della tua carriera italiana. E fra l'altro ho notato che dopo La Gran Buffa tu giri, un film bellissimo che si chiama Lo Trio Infernal, non so come si chiama in Italia, di Francis Giraud, con non meno di Michel Piccoli, che ritrovi dopo La Gran Buffa, e Robich Nézner. Quindi noi in quegli anni erano il massimo secco di questi due attori.